Mi hanno ordinato di pentirmi, ma io non so di che pentirmi, e non voglio pentirmi. La chiesa non è pronta, per questo. Vi chiedo pertanto di sondare in nome di Cristo. Per la croce. Abbiamo deciso di affidare il destino di Caravaggio. E per la spada. Quattro anni fa si è macchiato di un grave delitto. Con l'annato al taglio della testa, fuggì da Roma. Ed ora prospera in Napoli i palazzi della Marchesa Costanza Colonna. Tu e voi tutti dell'Accademia Intera, non avete occhi per vedere qualche ritratto? Ma io non vi sfido. Non vi vedo! Amava dipingere il vero. E cos'è il vero? Che ti preme di tanti Cristi in croce. Che vorrei fissarmi lì qui. Chi siete? I miei uomini mi chiamano Londra. Grazie alla mestria del Caravaggio sono diventata la madre di Dio. Una che vende la propria carne. Voglio avvicinare il divino all'uomo. Il talento unito alla perversione. Voi conoscete le volontà del Papa sulle immagini sacre e profane. Io con la mia arte. La vostra arte! Amavamo la sua arte. Chiesa è l'unica interprete! Siete il Caravaggio! Siete voi la mia luce. Vi aspetta la grazia del Papa. Non dipingerete mai più. Se me la togliete, mi togliete la vita.